Benvenuti a un nuovo video dedicato all'installazione degli infissi. Oggi vi porteremo nel suggestivo Hotel David presso il Lido di Savio in provincia di Ravenna. La giornata inizia presto, con il team di professionisti di regolo infissi che si prepara per la giornata di lavoro. Una volta pronti, ci abbiamo verso la prima stanza dell'hotel in cui verranno installati i nuovi infissi. Iniziamo con la rimozione degli infissi vecchi, con cura e precisione per evitare danni alla struttura. Abbiamo una vasta esperienza nel montaggio di infissi e ci assicuriamo sempre di svolgere il lavoro in modo sicuro ed efficiente. Ogni passo del montaggio viene eseguito con precisione e attenzione ai dettagli. Gli infissi vengono posizionati con cura all'interno del telaio e fissati saldamente. Ci assicuriamo che tutti i punti di fissaggio siano ben serrati per garantire la massima stabilità e sicurezza. Una volta completato il montaggio degli infissi in una stanza, procediamo con le altre stanze dell'hotel. Durante tutto il processo, ci assicuriamo di mantenere un ambiente di lavoro pulito e organizzato. Ci assicuriamo di fare un controllo finale per verificare che tutto sia stato installato correttamente e che gli infissi funzionino perfettamente. Grazie all'attenzione ai dettagli e alla professionalità dei nostri installatori, l'hotel David offre un ambiente accogliente e funzionale per i suoi ospiti. Vi ringraziamo per averci seguito e vi aspettiamo al prossimo video.